Good evening, già la passo. Buonasera, buonasera. Tutto bene? I am a teacher. Sì, lei è un insegnante, più o meno. I am in the classroom. Ah, è la sua classe, va bene. This is a blackboard. Sì, una lavagna. Non tanto black però, insomma. This is a desk. Sì, certo. Un banco. The window is open. Chi se ne frega? Farà anche freddo. And what is this? Non lo sappiamo. I don't know. Ecco. Piuttosto, c'è uno studente in questa classroom. Yes, I have a student. Ah, chi sarà mai? Vediamolo. Rolando. Yes. Vuole insegnare l'inglese a Rolando. È un'impresa disperata. Sit down, please. Si, si è da Rolando. Sì, si è da setta. Sì, si è da setta, va bene. Cosa gli vuole insegnare? In inglese, eh? A little question for my student. Una domanda. Sì, sentiamo. What's your name? Il nome. Come si chiama? Rolando. Ah. Very, very good. You speak very, very well. Rolando è una parola italiana, eh? What's the name of your father? Il nome del papà. Carmine. Carmine. Che c'è? Beutifull. The pronuncia è beutifull.